Buongiorno e buon lunedì. Il giornale di oggi si apre con un primo piano dedicato alle case green. L'Unione Europea accelera, ma sulla direttiva è bufera. Andiamo alle province, Bari, altro che cultura giovanile. In città solo il 5% delle biblioteche dedicato ai giovani. E poi ci spostiamo nella Bat. Scempio al braccio di Levante a Barletta. Rifiuti di ogni genere. Manca la sorveglianza. Ci sono delle foto che documentano quanto vi diciamo. Foggia. L'aeroporto di Foggia sempre più attraente. Parte la stagione estiva dello scalo di Torino che inserisce Foggia tra le sue destinazioni. E poi andiamo a Lecce. Alberi e zero barriere per il nuovo piazzale della stazione al Via e i lavori. A Brindisi i sindacati denunciano caos e carenza di personale nella neurochirurgia del Perrino. E poi Taranto. Il presidente dell'ordine degli architetti di Taranto si esprime sui giochi del Mediterraneo. Noi dimenticati dal comune. Ed infine Basilicata. Fine legislatura. I partiti avvisano Bardi. Nessun errore è ammesso. E allora con il nostro piccolo viaggio all'interno del giornale saltando di provincia in provincia abbiamo finito. Ci salutiamo così e naturalmente l'appuntamento è rinnovato a domani sempre alle 7 e sempre su questo canale. Ma vi ricordo che per restare collegati tutto il giorno c'è il nostro sito, ci sono i nostri canali social, c'è la nostra redazione. Buona giornata.